Ma capite? Ho fatto un passo, bisogna un rispettatore, mi ricerci dire direttamente. Guarda, 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 guarda il corpo di pesco, guarda il peso, guarda, guarda il corpo, ecco, eccolo qua, va tutto. È un cavallo. No, è un giugge. Vedi un po', e sembri da un corpo lavoratore. Ma professore, professore, ma io voglio venire volontario. Oggi non si accettano volontari. Cosa è se ne deravato? Sì. Oh no 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 no!